Ciao amici, io mi chiamo Gigi, sono venuto a farvi gli auguri di buon anno, se stavi a casa era meglio, soprattutto a te Marco, grazie Gigi, t'avevo detto di non venire a città, ma per te Marco, amici, sono venuto a portarvi un regalo se non vi offendete, un regalo a noi? No è una cosa che mi ha regalato il mio papà, solo che io non so cosa farmene, ma cos'è un regalo di Natale? Sarà un telefonino, una pista di macchinine, un computer? No, ve la faccio vedere, ma cos'è un cane? Sabrina, ma non si regalano le donne? Me l'ha regalata il mio papà, solo che ci ha giocato lui per un mese, non è un oggetto, è una donna, e io non so cosa farmene, cosa faccio? Ecco, falla salire allora, vieni su Sabrina, con io magari mi solletico un pochettino, visto che siete mortaccini, arrivo, ma che mortaccini? Ma cos'è? Non puoi salire anch'io? No Gigi, lei sì, tu no, tu vai a casa, ma ragazzi se vado a casa c'è una brutta aria, ma perché? Eh c'è la mamma che ha le palle un po' girate, non so come mai, ma chissà, no eh, no comunque non salire, ciao Gigi, ma co! Questa pazzi ricomincia, ma Ogan non desiste, vuole provare ancora, vedete ce la farà stavolta Ogan, ecco, la faccio la malta, eh Questa qui è la foto di Balotelli, la tengo nel portafoglio, da quando ha cambiato squadra ogni tanto lo tiro fuori un insulto, ma la vien tu così, no